Dunque ogni cosa parte da un dettaglio, ogni oggetto materiale che ci sta attorno era un'idea prima e quindi per un creativo, per un artista non c'è molta differenza scrivere poesie o comporre musica o dipingere per me è nata prima l'idea, dipingo e dipingo col silenzio e il silenzio è bianco E quindi queste sono alcune delle opere che poi vedremo anche alla mostra del 4 ottobre, giusto? Sì, corretto, sono spazi, sono visual, sono tentativi di dare, di leggere dietro il bianco tutte le sfumature e tutti i colori possibili, se tu pensi che un art director lavora con la forma, con gli spazi, con i pieni, con i vuoti e ogni annuncio, ogni manifesto, ogni marchio ha un rapporto con il pieno e con il vuoto, con il bianco e con il nero e quindi disegnare col silenzio che è la neve, che è l'invenzione perfetta per staccare i rumori del mondo, della nostra giornata secondo me è una cosa che ovviamente già molti artisti hanno fatto prima male, vicino il quadrato bianco secondo me il fatto che si possa fare di un annuncio pubblicitario, quello che vediamo adesso questo è il classico annuncio pubblicitario, c'è una comparazione, c'è lo spazio del titolo, c'è lo spazio del marchio c'è lo spazio del testo e quindi sono annunci desemantizzati, sono tipologie di bianchi dove tu togli il significato alle cose che vedi, è una pubblicità antipubblicità da un certo punto di vista Certo